Anno nuovo, vecchi problemi. In alcune zone della Sicilia, il 2018 è già ricominciato all'insegna dell'emergenza rifiuti nelle altre parti dell'isola e una spada di Damocle sulla testa dei cittadini. Proprio in queste ore, oltre 50 sindaci del Parlermitano sono in protesta a Palazzo d'Orleans per il blocco di Bello Lampo e per il significativo aumento dei costi. Una bomba d'orologeria pronta ad esplodere in ogni momento. Lo sa bene il presidente Musumeci, che ha infatti messo l'emergenza rifiuti al primo posto del suo programma di governo. Rivedere lo statuto siciliano, puntare sul lavoro e sull'occupazione e risanare i conti regionali. Sono queste le priorità per far ripartire l'isola, secondo il neogovernatore. Secondo quanto riferito dallo stesso Musumeci, quello dei rifiuti è il primo grave problema che questo governo è stato chiamato ad affrontare. Anche se è difficile parlare di emergenza, visto che il problema si trascina dal 1998. Sette governi regionali si sono alternati da allora, un prefetto e due magistrati, ma il problema in Sicilia è rimasto insoluto e sempre più gravoso. Si è preferito alimentare il sistema clienterare, oligarchico, talvolta mafioso, delle discariche che ha il solo prodotto aumento dei costi di smaltimento, a vantaggio di pochi. Musumeci, senza mezzi termini, ha parlato anche di discariche al collasso, con 7-8 mesi di autonomia e a Bello Lampo neppure questo. Siamo all'ultima regione italiana per differenziata, ha spiegato, siamo al punto di non ritorno. Serve ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica, dove ogni giorno arrivano 5.000 tonnellate. Per guadagnare un anno di tempo dobbiamo farne arrivare la metà, 2.500 tonnellate già pretattate, ma mancano impianti di compostaggio, per realizzare i quali ci vuole almeno un anno e mezzo. E intanto non tutti i comuni fanno la differenziata, solo 100 comuni siciliani superano il 50% di raccolta. Abbiamo in cantiere un piano per la bonifica delle discariche, la realizzazione di almeno 10 impianti di compostaggio in diverse parti dell'isola. Musumec ha poi spiegato che il Ministero indica di mandare i rifiuti fuori dalla Sicilia, tuttavia le regioni italiane non sono disponibili ad accettare rifiuti siciliani. La strada dei paesi esteri è difficile perché bisogna usare le navi e nei porti siciliani non sempre c'è la possibilità di fare questo tipo di imbarco. Ma verrebbe anche da chiedersi a quali costi sulle tasche dei siciliani, ovviamente altissimi. L'assessore cerca soluzioni di intesa con tutti i sindaci. Oggi sono 33 soggetti fra ex Ato e SRR che si occupano di rifiuti, ma ne funzionano solo quattro. Bisogna procedere a riforma e assegnare alle nove province il compito di gestire i rifiuti, come ha spiegato il Governatore. Accelerare il processo di liquidazione di Ato e SRR è ormai diventati luoghi di stallo, come ha detto lo stesso Musumeci.